Grazie Franco, ne terrò conto, grazie, grazie. Ah, che bella giornata oggi, mi sembra proprio... Un attimo. Che diavolo è questo coso? Aspetta un attimo, questo... Se non... Oh no. Oh no, 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 il villaggio è malato. Oh no, oh no, è pieno di legno marcio. No, 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 devo toglierlo, devo toglierlo. Cos'è successo? No, 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 se lo scavo, ce n'è ancora di più. Ok, devo andare a dirlo a strizzala pizza, sempre la soluzione lui. Strizzala pizza, strizzala pizza, dove sei finito? Proprio ora che ho bisogno di te, mannaggia te. Strizzala pizza, allora ascoltami. Ciao, prima di tutto. Fammi uscire! Ascolta, strizzala pizza, ho un problema. Che diavolo vuoi? Beh, grazie che me l'hai chiesto. C'è il legno maledetto. Qui fuori, 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 aiutami, mi devi aiutare, aiuto. Oh no, quello ci distrugge tutto il villaggio, devi farlo fuori. Vieni, ti faccio vedere dove si trova l'amuleto eterno che può sconfiggerlo. Andiamo. Ma è dietro casa mia? Cioè praticamente è qua il posto, non è che sia molto lontano. Ok, scendiamo allora. Oh wow, scusami, immagino che ovviamente non funziona. Strizzala pizza, perché non funziona? Non pensavi che era così semplice, vero? È un amuleto molto potente, ricercato da moltissimi. Ho capito, dammi la chiave, devo aprire questa porta. Non posso, stupido. Cosa hai detto? Ti do un altro pugno in faccia. Devi scendere ancora se vuoi prendere la chiave. Ah ok, potevi dirmelo prima comunque tu e accipicchia. Ah bene, perfetto. È così tanto potente questo amuleto, che non ci credo comunque, che ci sono tutte queste trappole. Ok dai, andiamo. Oh io, fa dannatamente male. Ok, perfetto. Andiamo così pian pianino, pian pianino, perché così si può fare tutto pian pianino. Ok, perfetto. Ho sbloccato questa cosa. Ehm, ciao. Strizzala pizza, potevi dirmi di prendere l'armatura invece di farmi morire così? Prendila come una vendetta per avermi rinchiuso in quel buco. Veloce prima che il villaggio sia spacciato. Accidenti. Un giorno di questi, guarda, io ti farò fuori in un qualche modo. Vabbè, aia, aia, aia. Vabbè, comunque queste trappole non mi fanno più così tanto male ora che ho la mia armatura. Ho detto, vieni subito qui. Accidenti a te. Non ti permettere mai più. Dai, veloce, che devo cercare di salvare il mio villaggio. Povero villaggio. È veramente difficile questo guardiano. Mannaggia. Però per fortuna che io sulla super spada... Ah, veloce. Madonna, sta proprio facendo male comunque. Dai, muori. Non farmi perdere altro tempo. Veloce, 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 veloce. Veloce, veloce, così, così. Ok, perfetto. Vado qua e prendo direttamente la chiave. Allora, chiave, dove sei finita? Dammi. Oh, perfetto, perfetto. Ok, perfetto. Questo è una cosa che non ho capito esattamente cos'è. Forse è un cannone super potente. Adesso dirò assolutamente a Strizza la Pizza di rimettere il coso, il guardiano, perché potrebbe servire se dobbiamo rimettere la chiave qui sotto. Ehi, Strizza la Pizza, ho recuperato la chiave. È stato molto semplice ora con la mia armatura brutto stupido. Ah, ok, perfetto. E questo è l'amuleto eterno. Ora, tecnicamente, con questo posso effettivamente andare a togliere tutto questo legno. Veloce. Oh mio Dio, mi sa che vuole il mio amuleto questo, lo sapevo. Strizza la Pizza non me l'aveva detto, però mi sa che questi qua vogliono tutti il mio amuleto. Vabbè, prendiamo tutto questo legno ora che è possibile. Dai, 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 veloce. Oh mio Dio, ok, tu, via, 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 vai via. Vabbè, senti, ho perso la pazienza con te. Ok, ti ho ucciso, perfetto, non avrai mai il mio amuleto, mi dispiace molto. Ah, veloce, veloce, prendi questo legno, dai, 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 dai. Ok, posso prendere anche questo, anche in casa mia, prima che si espanda troppo. Ok, ancora, perfetto, sì. Prendiamo questo, ok, questo. Bisogna stare attenti e non scordarsi nemmeno un pezzo perché altrimenti potrebbe espandersi in tutto il villaggio. Duny, saiuto! Strizza la Pizza, ma che, perché sta chiamando aiuto? Cosa sta succedendo? Fammi... No, 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 tolgo tutto, tolgo tutto. Duny, saiuto, veloce, veloce, togli questo legno. Sì, lo sto togliendo, non ti preoccupare, strizza la Pizza. Tutto bene, adesso ti tolgo anche fuori da qui. Ma poi perché sei ritornato lì dentro? Allora ti piace stare lì dentro. È tutto così comodo e bello quel buchette. No, aspetta, cosa ho detto? Veloce, togli questa cosa, veloce, veloce, veloce. Ok, perfetto, tutto bene, quel che finisce bene, giusto? Non c'è più nessun legno. Esatto, Duny, hai sconfitto, hai tolto tutto il legno. Oh, perfetto, accidenti, che bello, che bello, che bello. Ora riporta l'amuleto da dove l'hai preso e chiudi a chiave, mi raccomando. Ciao, strizza la Pizza. Ok, aspetta, metto qui l'amuleto, ok. Bene, tutto bene, quel che finisce bene. Cavolaccio, che bella avventura che è stata questa. Ciao, ciao. Ciao, ciao.